Allora, grazie due volte per aver dato la disponibilità a partecipare ad una seconda lezione e per avermi dato la possibilità di trattare un tema che, come il professor Perri sa, mi vede sostanzialmente isolato rispetto a tutta la dottrina italiana sull'argomento. Ti dovresti fare delle domande a questo punto. Mi consola il fatto che i ragionamenti di cui parliamo oggi e che ho sintetizzato nel libro che vedete hanno avuto delle recensioni lusinghieri, il che mi lascia pensare di non essere completamente pazzo. E in ogni caso, essendo in un ambito accademico, professionale ma anche accademico, anche soltanto l'esercizio di darmi torto rispetto a quello che sentirete, che è per voi un esercizio utile per rinforzare la vostra preparazione. Tenete presente che a differenza della velocità della luce che non si decide per alzata di mano, in realtà il diritto non ha una sua oggettività. È estremamente legato al numero delle mani che si alzano e all'appartenenza del resto del corpo rispetto alla mano tradotto. Alla fin fine possiamo sostenere quello che vogliamo, ma l'unico ad avere realmente ragione è il giudicante, che è quello che tira una linea fra i vari approcci. Proprio stamattina a lezione spiegavo ai miei studenti che poi alla fin fine lo studio accademico un suo senso ce l'ha anche quando propone teorie le più improbabili o le più minoritarie, perché presto o tardi in giurisprudenza sarà necessario avere accesso ad una teoria eterodossa e quindi accedere al patrimonio di conoscenza generato dall'accademia giuridica è utile perché presto o tardi ci sarà la possibilità di utilizzare anche opinioni o approcci che erano considerati non ricevibili. L'esempio storico di tutto questo che peraltro mi riguarda personalmente è quello della disciplina sui sequestri informatici. Come ben sa il professor Perri, perché fu parte anche lui di quel primo movimento di giuristi che cominciarono ad opporsi alla pratica delle procure di sequestrare non solo dati, ma anche computer, monitor, tastiere e anche tappetini dei mouse, prassi che è durata fino a tempi non troppo remoti. Bene, all'epoca ci fu un florileggio di giurisprudenza che sosteneva il vincolo pertinenziale fra il mouse e il computer e quindi sostanzialmente metteva una pezza a colori su quella che era una confessione di patente e clamorosa ignoranza degli operatori di polizia giudiziaria. Bene, ci sono voluti decenni, c'è voluta la legge 48 del 2008, ma poi alla fine la Cassazione come se niente fosse comincia a dire che bisogna sequestrare solamente i dati, c'è, se volete, liberamente disponibile il capitolo che ho dedicato a questo tema nel trattato di diritto dell'internet pubblicato da Giuffre e che appunto compie una ricognizione storica dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema. Quindi questo per dirvi che alla fin fine, anche se non doveste essere convinti da quello che sentirete oggi, e non è assolutamente detto che voi dobbiate esserlo tra parentesi, non sarà tempo sprecato. What Privacy is Not è il nome provvisorio del libro che appunto vedete, Protecting Personal Information, che l'editore ha voluto poi preferire rispetto a questo tema, a questo titolo che era stato considerato un po' troppo aggressivo per gli standard inglesi. Ciò non toglie che, quella la salto perché l'avete già vista, l'intervento di oggi nella sostanza è invece orientato esattamente a parlare di ciò che non è privacy, ma viene correntemente considerato tale. Come immaginerete, anche se non altro per l'intestazione del corso di perfezionamento che state frequentando, il grande tema è il rapporto fra privacy e protezione dei dati personali, che in modo molto sbrigativo viene risolto da molti interpreti e anche da molti commentatori, accomunando automaticamente i due concetti e quindi evitando di porsi il problema della definizione. Il problema della definizione, come già è emerso nella lezione precedente, è una mia fissa, nel senso che trattandosi di diritto, se prima non chiariamo di cosa stiamo parlando, diventa difficile fare poi ragionamenti di approfondimento. E quindi scopriremo che la tutela normativa della privacy non è necessariamente sovrapponibile a quella della protezione dei dati personali e soprattutto non ha necessariamente o non ha quel valore supercostituzionale che nella vulgata, nella narrativa comune, nella narrativa corrente, si attribuisce a questo diritto. Partiamo da una domanda apparentemente banale e che non dovrebbe creare un particolare problema nel fornire una risposta. Che cos'è la privacy? Tradizionalmente c'è la storia dell'articolo di Warren e Brandeis, Right to be alone e compagnia cantando, però anche su quello già sarebbe il caso di cominciare a sfatare alcuni miti. Per esempio, il fatto che il motivo di quell'articolo, le cui tesi poi non furono immediatamente peraltro accettate dalla giurisprudenza statunitense, non era tanto il discorso dell'invasione della stampa nelle vicende del matrimonio della figlia di uno dei due, ma il fatto che essendo delle persone del jet set della Boston dell'epoca, la loro vita extra-professionale era spesso all'attenzione dei mezzi di informazione. Perché è più probabile che sia questa la motivazione che ha spinto i due giuristi a scrivere quell'articolo? Semplicemente perché la figlia della quale si ventilava il matrimonio all'epoca aveva 15 anni. E siccome negli Stati Uniti dell'epoca non si applicava, non vigeva il costume delle spose bambine, come invece era previsto in India, è abbastanza improbabile che a quell'età la signorina si potesse potesse contrarre matrimonio. Ma in quel periodo, poco dopo, in realtà pochi decenni dopo, accade un qualcosa di realmente rivoluzionario nel mondo dell'informazione che quello sì crea una frattura, una cesura e pone i primi problemi legati a quello che genericamente, almeno per il momento, chiamiamo privacy. Kodak inventa la prima macchina fotografica portatile. Ovviamente non stiamo parlando del concetto di portabilità di oggi e quindi di macchine fotografiche, delle dimensioni di uno smartphone da 5 pollici. Stiamo parlando di un oggetto massiccio, ricorderete per averne visto in qualche film americano ambientato in quell'epoca, ricorderete un oggetto che si doveva tenere con una mano mentre il fotografo teneva con l'altra il flash, però oggettivamente si passa da una situazione nella quale la macchina fotografica era il treppiede con il fotografo che si metteva il telo sulla testa e faceva rimanere fermi per lunghe decine di minuti i soggetti da riprendere, si passa da una situazione di quel genere a una situazione nella quale il fotografo va in giro e cattura schegge di realtà in tempo reale. Quella è la prima innovazione tecnologica che oggettivamente rivoluziona il mondo dell'informazione, perché porta, insieme alle tecnologie della stampa, per la stampa dei quotidiani intendo dire, porta la possibilità di congelare la realtà, di raccontarla e di riprodurla in un numero enorme di esemplari. Quindi che cosa succede? Succede che con la convergenza tecnologica dell'epoca si pone il problema del... si cominciano a porre da subito i problemi del limite o del rapporto, se volete, fra l'utilizzo di queste tecnologie dell'informazione in rapporto, da un lato, alla libertà di espressione che dal punto di vista della formalizzazione nell'ordinamento statunitense è molto più risalente del diritto alla privacy, è appunto una qualche forma di tutela dell'individuo legata al concetto di, molto new yorkese in realtà, del that's none of your business, non sono fatti tuoi. Perché il right to be alone, vedremo, non è esattamente esaustivo del concetto di privacy, perché si accompagna ad un altro concetto che è il need to know, il bisogno o il diritto di sapere, che invece afferisce, anticipo, faccio un po', anticipo un po' quello che dirò successivamente, che invece afferisce più al concetto di libera circolazione dei dati e quindi di trattamento dei dati personali più che del concetto di privacy. Sta di fatto che noi intuitivamente, se non altro per essere stati esposti per decenni a questo tipo di concetti, intuitivamente, ripeto, consideriamo la privacy come un qualcosa di esclusivo ed escludente, come appunto una ringhiera, un divieto di accesso rispetto a quella che può essere, a ciò che accade dietro quella grata, dietro quel muro. Quindi nella sostanza, e qui peraltro vedete già la prima differenza concettuale fra il trattamento dei dati personali e il diritto alla privacy, quindi concettualmente la privacy è un diritto negativo, è un diritto passivo e statico, dove invece la protezione dei dati personali è un diritto assolutamente attivo e volto all'interazione. D'altra parte, già la vecchia direttiva 9546 e il GDPR rinforza il concetto, prevedeva il fatto che i dati personali dovessero poter circolare liberamente e anzi era positivamente previsto che le norme non potessero essere interessate, interpretate in funzione di generare inerzia rispetto al principio della libera circolazione dei dati all'interno del territorio dell'Unione. Quindi già soltanto limitandoci a questi due approcci che non sono opinioni, sono fatti, capiamo che i due ambiti sono molto poco sovrapponibili. Un altro aspetto del quale dobbiamo parlare quando ci occupiamo di privacy fa necessariamente riferimento ad alcuni argomenti che peraltro abbiamo trattato l'altra volta e che poi non ho avuto il modo di approfondire, ma magari lo facciamo adesso, che fanno riferimento alle forme di controllo sociale. Tradizionalmente quando si evoca il tema del controllo sociale vengono sistematicamente fuori questi due approcci, il grande fratello e il panopticon. In realtà parlare oramai anche qui la vulgata anche per via di una ossessiva diffusione del tema nelle mani dei mezzi di informazione generalisti, oramai la vulgata vuole che il grande fratello sia associato alla telecamera e quindi per via anche del reality show che ha dato inizio poi a tutta una serie di cloni. Però vi domanderei quanti di voi hanno realmente letto 1984? Magari rispondetemi in chat se non volete intervenire durante la... se non volete intervenire a voce Hai una risposta? Sì, una immagino allora quando Winston Smith il protagonista di 1984 racconta che cosa fa o meglio c'è una parte iniziale del 1984 nella quale appunto si parla del fatto che Winston Smith dovesse occuparsi di rivedere le notizie sulla disponibilità del cioccolato cioè in altri termini il grande fratello aveva dato delle indicazioni sulla disponibilità di dosi di quantità di cioccolato informazioni che si erano dimostrate non corrette il ruolo di Winston Smith era quello appunto di fare in modo che retrospettivamente tutte quante le informazioni scritte documentate delle quali era stata lasciata traccia che contenevano l'informazione sbagliata venissero corrette in modo da far sì che il grande fratello fosse sempre nel giusto quindi il controllo messo in piedi dal grande fratello non era finalizzato alla violazione della privacy era finalizzato al tenere sotto controllo la realtà politica sociale nella quale sottoposta al suo governo in modo da poterla rideterminare da poterla riscrivere in tempo reale a seconda delle necessità del momento quindi il grande fratello è una metafora per una macchina di riscrittura e condizionamento della libertà di pensiero la forma di controllo tramite la televisione le telecamere e via discorrendo non erano finalizzate alla violazione della privacy in quanto tale non a caso si dice che Orwell avesse scritto 1984 per denunciare la situazione che si viveva la condizione che si viveva nella Russia comunista nella Russia stalinista considerate che Orwell era un comunista convinto Russia nella quale la riscrittura appunto della storia era un era ed è mi verrebbe a dire una prassi assolutamente consolidata se fate una ricerca ci sono delle foto di Stalin che sono state delle foto ufficiali che sono state manipolate successivamente dalle strutture istituzionali per cancellare dalle fotografie dei soggetti politici che nel frattempo erano caduti in disgrazia quindi il fenomeno dei deep fake non è concettualmente un fenomeno nuovo si fa in modo diverso si fa in modo più spinto ma l'alterazione delle immagini per condizionare la comunicazione politica o le opinioni sociali è una cosa che è tranquillamente ascrivibile per lo meno nei tempi moderni almeno al al primo dopoguerra quindi ecco il motivo per cui a commento delle foto di queste telecamere c'è un punto interrogativo e se ci pensate il reality show si chiama Grande Fratello non perché le persone vivono sotto il controllo delle telecamere ma perché gli autori ne condizionano la vita tramite l'interazione con le telecamere quindi da questo punto di vista si potrebbe dire che la vera ragione per la quale il reality show si chiama Grande Fratello è perché c'è un Grande Fratello effettivamente d'altra parte gli autori venivano chiamati chiamavano loro stessi nella trasmissione Grande Fratello c'è un Grande Fratello che orienta le esistenze di quelle persone certo nel reality show alla fine era tutto finto ma il concetto quindi rimane parlare di Grande Fratello come strumento o come archetipo di violatore della privacy è semplicemente e fattualmente sbagliato l'altro modello che normalmente si associa alle forme di controllo sociale e dunque all'interazione con una qualche forma di diritto alla privacy notate che fino ad ora mi sono astenuto dal definire il concetto è il panopticon il panopticon è il carcere se già vi è stato detto a lezione ditemelo che salto questa parte sì ne abbiamo parlato Andrea in modo diffuso? dipende cosa intendi per diffuso gli ho parlato di Bentham gli ho parlato di Foucault ah ok quindi sorvegliare e punire sanno di che cosa di che cosa si tratta e quindi dico ricordo solamente per la parte di Foucault l'esperimento successivo e cioè il la considerazione sulla base della quale cosa succede se i reclusi sanno che c'è la torretta di controllo al centro del carcere ma non sanno se dentro ci sia effettivamente qualcuno e quindi si pone il tema della scommessa cioè scommetto sul fatto che in realtà non c'è nessuno dentro la torre di controllo e quindi provo a scappare oppure non mi assumo il rischio faccio mi comporto come se all'interno della torretta ci fossero i secondini e quindi mi auto mi auto regolo su questo bilanciamento su queste su questa doppia opzione per esempio è costruita la giurisprudenza della Cassazione in materia di videosorveglianza perché voi sapete che anche la mera installazione di telecamere spente o addirittura finte concreta una violazione della normativa sui controlli a distanza perché perché dice la Cassazione ciò che conta è l'effetto deterrente della telecamera quindi l'effetto psicologicamente deterrente quindi le telecamere finte installate sui luoghi di lavoro sono una declinazione diversa ma concettualmente del tutto identica del panopticon metto un feticcio e induco nelle persone un metus tale per il quale preferiscono il comportamento osservante rispetto al rischio di non al rischio derivante dal dal non sapere se effettivamente c'è qualcuno all'interno del o dietro il monitor nel caso specifico delle telecamere vi racconto un aneddoto che mi è stato a sua volta raccontato da un collega sudafricano negli anni negli anni settanta i i datori di lavoro bianchi che avevano appunto lavoratori di colore usavano come forma di di controllo fare finta di cavarsi un occhio quando in realtà avevano in mano una biglia di vetro che poggiavano su su un supporto dicendo io adesso mi assento ma lascio qui il mio occhio che vi controlla e mi diceva questo collega il trucco funzionava a dimostrazione di cosa adesso al di là del fatto che possa anche far sorridere una cosa di questo genere però voi calatevi nella realtà sociopolitica dell'epoca nel nelle condizioni nelle quali si trovavano di grande differenza sociale che caratterizzavano le varie classi in Sudafrica e non è poi così improbabile che un approccio superstizioso potesse dispiegare i propri effetti magari questi imprenditori questi che potremmo anche chiamare con altri nomi meno lusignieri non avevano letto Foucault non avevano letto Bentham chiedo scusa ma nella sostanza avevano intuito che ciò che conta non è il controllo ma la percezione del controllo quindi sull'aspetto del Panopticon a differenza di quello del Grande Fratello l'elemento centrale è la percezione del controllo più che il controllo stesso e allora cominciamo ad entrare un po' più in media stress normalmente quando si parla di privacy la prima cosa che viene in mente appunto è il famoso right to be alone il concetto di riservatezza non sono fatti tuoi ma in realtà non è non è così non è così perché se voi guardate normalmente a quali ambiti si può applicare il concetto di riservatezza vedrete che non c'è una sovrapponibilità con quello di privacy qui faccio tre esempi criminali partner infedeli attivisti politici vogliono sicuramente confidenzialità suonare a Sange per per informazioni ma di certo non hanno non stiamo parlando di un diritto alla privacy così come più o meno lo concepiamo un narcos vuole solamente essere certo che quando va a ritirare il carico non ci sia l'antidroga non ne frega niente del rispetto della vita privata o della riservatezza quindi riservatezza e confidenzialità non equivalgono o non sono necessariamente elementi costitutivi del diritto alla privacy allo stesso modo un partner infedele non può invocare pensate alla diciamo alla fase giudiziaria e giudiziale della separazione non può invocare la privacy come scusa per coprire l'infedeltà e allo stesso modo l'attivista politico non si preoccupa della violazione dei suoi diritti fondamentali si preoccupa di non essere scoperto di non essere imprigionato e di non essere torturato quindi in questo senso il segreto la confidenzialità dei contatti che intrattiene non ha niente a che vedere con la privacy ma ha tutto a che vedere con la tutela della vita quindi si può concludere in prima battuta che riservatezza non equivale a privacy e quindi non è possibile utilizzare questi due termini come sinonimi un altro elemento importante da considerare è che la privacy non equivale a tutela della vita privata perché dico questo la convenzione europea dei diritti umani non parla di privacy usa il termine di tutela della vita privata e familiare all'articolo 8 e include nell'ambito della tutela sia appunto della vita privata e familiare anche il domicilio e la corrispondenza quindi se abbiamo sposato la definizione del concetto di privacy come right to be alone vediamo che assolutamente non può equivalere al concetto di tutela della vita privata e familiare perché perché la tutela della vita privata e familiare avviene anche nei luoghi pubblici luoghi pubblici dove persino la Cassazione è granitica nel dire non esiste una reasonable privacy expectation non c'è una ragionevole aspettativa di privacy ciò non toglie che la vita privata sia tutelata anche e soprattutto all'esterno della nostra casa del nostro domicilio perché questo quando siamo in un ambito professionale come per esempio questo ciascuno di noi indossa la persona ricorderete che la persona era la maschera che nel teatro greco veniva vestita indossata dall'attore e che trasformava l'attore nel personaggio ciascuno di noi ciascuno di noi ha più persone a seconda del ruolo che che riveste quindi indossa la propria persona se volete usare un termine più più contemporaneo utilizza il proprio avatar fate voi a seconda del contesto nel quale si trova quando vado a prendere i miei figli a scuola oramai non più però quando andavo a prendere i miei figli a scuola in quel momento non ero né avvocato né docente universitario ero semplicemente un padre di famiglia che stava attendendo alle proprie ai propri casi assolutamente familiari questo fa venire meno quindi non c'è sicuramente un tema di privacy nel fatto di andare a prendere i propri figli a scuola o di andare a fare la spesa ma c'è assolutamente un tema di tutela della vita privata e familiare e questo lo vedete bene nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani che oggettivamente esagerando ha espanso l'ambito di applicazione dell'articolo 8 che è la norma che appunto tutela la vita privata e familiare fino ad arrivare appunto a casi che coinvolgono le emissioni il rumore l'inquinamento e via discorrendo per darvi un esempio concreto di quello che intendo dire quando sostengo che la privacy non equivale a tutela della vita privata vi ricordo il caso Mesiano che cos'è il caso Mesiano il giudice Mesiano è uno di quelli che è uno dei magistrati che in passato si occupò dei processi di a carico di Silvio Berlusconi ovviamente non intendo minimamente entrare nel merito o occuparmi di queste vicende vi riferisco di questo caso perché a sua volta è diventato pubblico ed è un un esempio paradigmatico del rapporto fra libertà di informazione libertà di espressione di stampa e tutela della vita privata non della privacy che cosa succede succede che quando viene nominato questo giudice come magistrato incaricato di decidere di non mi ricordo più nemmeno quale processo peraltro parte una campagna stampa con pedinamenti del tutto leciti perché ripeto all'aria aperta nei luoghi pubblici non c'è reasonable privacy expectation che sono diretti a raccogliere tutta una serie di informazioni sull'abbigliamento sul comportamento sulle atteggiamenti di questo magistrato informazioni che vengono collezionate e organizzate in un servizio che nella sostanza vuole dire ma come fa uno che si comporta in questo modo che si veste in questo modo a poter giudicare una persona che peraltro poi ha ruoli istituzionali e via discorrendo all'esito di questa campagna ci fu anche un provvedimento disciplinare nei confronti del direttore della testata però quello che conta a me quello che mi interessa del motivo per il quale ho parlato o portato questo caso è fargli vedere come un aspetto assolutamente pubblico inteso ove per pubblico intendo esposto agli occhi di tutti sia in realtà un momento assolutamente personale perché di questo giudice non si stava criticando che ne so un errore clamoroso nell'interpretazione della legge un comportamento inappropriato nella gestione dell'udienza si stava sindacando una serie di atteggiamenti personali che nulla avevano a che vedere con la sua con il ruolo quindi con la sua persona che doveva indossare una volta avarcati i portoni del palazzo di giustizia quindi anche da questo punto di vista l'equivalenza fra privacy e tutela della vita privata fattualmente non c'è altro elemento che costituisce oggetto di invocazione della tutela della privacy anche da parte di insospettabili giuristi che dovrebbero conoscere un po' meglio l'argomento è quello del rapporto fra privacy indagini penali e intelligence ora sappiamo tutti perché tutti facciamo gli avvocati che le indagini penali richiedono necessariamente la violazione della sfera privata della persona ma la fonte che regola questa questa invasione della sfera privata non è il gdpr non è la pragasi ma è la costituzione è la costituzione che sancisce l'inviolabilità del domicilio e della corrispondenza salvi i provvedimenti motivati della della magistratura la costituzione che recepisce il concetto di giusto processo e dunque di garanzie difensive allora per tutto quello che riguarda il mondo delle indagini penali non è la privacy a tutelare la privacy ma è il codice di procedura penale è il complesso sistema che tutti conosciamo di controlli sull'operato del pubblico ministero voi sapete che mentre i sequestri probatori possono essere disposti direttamente dal PM intercettazioni e utilizzo di altri sistemi più invasivi devono passare attraverso il vaglio del GIP e poi c'è il controllo della difesa nel momento in cui gli atti diventano pubblici e poi c'è la fase dibattimentale adesso senza voler entrare nelle miserie della quotidianità del processo penale a livello di sistema non è la privacy che tutela il cittadino dall'operato dell'applicazione nell'applicazione delle norme del codice penale l'altro tema sul quale sono state costruite non poche fortune è quello del rapporto fra privacy e sicurezza nazionale per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi di sorveglianza di massa classico argomento ampiamente perdonatemi sono molto critico su questo su questo tema perché la narrativa comune sfiora veramente l'ipocrisia il punto è molto chiaro ne abbiamo parlato molto approfonditamente l'altra volta la sicurezza nazionale ha le sue esigenze la sicurezza nazionale è un concetto benché sia presente nella Costituzione all'articolo 126 benché il Presidente del Consiglio sia nominato sia riconosciuto dalla legge 124 2007 come autorità alla quale spetta l'alta direzione politica per la informazioni per la sicurezza dello Stato benché insomma queste siano le le norme nei fatti la sicurezza nazionale è un qualcosa da utilizzare al di fuori del sistema giuridico perché altrimenti non funziona questo vuol dire che in nome del whatever it takes perché c'è appunto la la necessità di sicurezza nazionale possiamo scordarci della tutela dei diritti o abbiamo a nostra volta un la possibilità di opporre un diritto alla privacy rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale bene è abbastanza intuitivo capire che se di fronte alle indagini penali non c'è privacy che tenga il problema di fronte alla sicurezza nazionale che si occupa della sopravvivenza della nazione in quanto tale a maggior ragione non si può opporre la privacy ma si ha il diritto di esigere un potere di controllo o l'esistenza di un soggetto terzo che garantisca il cittadino dagli abusi in altri termini concepisco e comprendo la necessità che le attività di intelligence debbano essere compiute in una dimensione di oscurità di non trasparenza se non addirittura di segreto non di riservatezza di segreto ma nello stesso tempo un sistema realmente democratico basato sul rule of law dovrebbe avere i suoi i suoi metodi di check and balance per far sì che questi che questi poteri vengano utilizzati in modo corretto bene se guardate il modo in cui è strutturata l'organizzazione della sicurezza nazionale italiana anche all'indomani dell'istituzione dell'agenzia della cyber security vi renderete conto che siamo di fronte a un colossale esercizio di plausible deniability in altri termini a partire dalla formulazione testuale delle norme per passare poi alla organizzazione amministrativa di tutti questi enti è praticamente impossibile capire chi ha ordinato cosa o se chi ha compiuto determinate azioni le ha compiute sulla base di un effettivo ordine andate a leggere le norme e poi mi direte se se condividete o meno questo questa lettura del dell'approccio italiano alla sicurezza nazionale dunque il rapporto fra sicurezza nazionale sorveglianza di massa e diritti dell'individuo non si calcola utilizzando la privacy ma utilizzando il bilanciamento di interessi rispetto al diritto del cittadino di controllare il controllore quindi non è la privacy ma il quis custodias ipsos custodes ad essere il paradigma ad essere la cifra per gestire il tema della sorveglianza di massa e della sorveglianza tecnologica altro tema la privacy non necessariamente tutela la dignità e quindi non equivale alla tutela della dignità da questo punto di vista si potrebbe addirittura affermare che la tutela della privacy usare la privacy come strumento giuridico per la tutela della dignità è addirittura un atto discriminatorio perché l'esempio che commento analiticamente nel libro che avete visto è quello di una decisione della Corte Suprema indiana non dello Stato dell'Indiana dell'India quella vera che in materia di libertà sessuali e quindi di orientamento di libertà di espressione dell'orientamento sessuale attribuisce alla privacy il diritto il potere di tutelare appunto questa questa libertà di scelta il passaggio che riporto è rilevante in particolare per l'ultimo paragrafo il diritto alla privacy e la protezione dell'orientamento sessuale è alla base del diritto fondamentale garantito dai diritti fondamentali garantiti dagli articoli 14 e 15 e 16 della Costituzione indiana bene però se affermiamo che il diritto alla libertà alla tutela della libertà del proprio orientamento sessuale afferisce giustamente alla tutela della dignità associare questa tutela della dignità al diritto di nascondere il proprio orientamento significa mettere in piedi una situazione tutto sommato abbastanza ipocrita basata sull'occhio non beve e cuore non duole o se la volete esprimere in modo più formale in termini giuridici andate a leggervi la relazione al codice penale Zanardelli che sia nella parte in cui si è occupata del reato di incesto che vi ricordo per tantissimo tempo è stato reato contro la morale pubblica e non reato contro la persona nella quale relazione si diceva sì l'incesto è l'incesto però non possiamo permetterci di entrare a questo livello di invasività nelle case dei sudditi allora paradossalmente la privacy diventa una giustificazione per considerare l'incesto che fra i reati è fra i peggiori non un reato contro la persona ma un reato contro la morale pubblica tradotto ricordatevi di tenere le finestre chiuse è una conclusione paradossale ma tecnicamente non discutibile e quindi sostenere che la tutela della dignità passa per il diritto a nascondersi significa dire alle persone alle minoranze ai portatori di uno stile di vita differente l'importante è che non vi fate vedere non mi sembra una grande tutela della dignità della persona altro tema che negli ultimi due anni ha costituito un ha provocato dibattiti al calor bianco molto spesso alimentati da medici o da chiamiamoli scienziati che sulla base non conoscendo evidentemente il dialetto milanese o felefa al tuo mestè pasticcere fai il tuo lavoro e nemmeno le citazioni classiche né supra crepidam hanno ritenuto che la conoscenza tecnica delle loro discipline li abilitasse ad esprimere opinioni anche su aspetti di public policy e su aspetti normativi dei quali palesemente non hanno non avevano e non hanno alcuna conoscenza questo modo lo dico in termini non polemici ma in termini fattuali perché per chi di voi legge Wired o altri scoprirete che improvvisamente a due anni di distanza cose che ho ampiamente trattato nell'articolo che vi ho inviato quello sul tecnocontrollo ci si accorge che Taiwan è riuscita a contenere il covid a due anni di distanza ci se ne accorge per cui adesso tutti a dire Taiwan Taiwan che è tutt'altro che una frontiera della democrazia attenzione perché è uno stato piccolo ma molto complesso dal punto di vista delle dinamiche interne sta di fatto però che come mi sembra di avervi anticipato sia Taiwan sia in Corea del Sud un utilizzo estremamente esteso ma trasparente e razionale ha consentito l'utilizzo di una enorme quantità di dati innanzitutto per fare contact tracing cioè per individuare i focolai dei contagi e quindi tenerli sotto controllo voi tutti saprete perché siete esperti della materia delle polemiche innescate dall'app Immuni che appunto in nome di una sfittica e malintesa concezione della privacy e della sua confusione con la protezione dei dati personali ha creato innanzitutto lo sviluppo di un'applicazione che era sostanzialmente inutile ma soprattutto ha celato il tema reale del contact tracing che non si e cioè il contact tracing non si fa con le app si fa con un sistema va bene raccogliere le informazioni ma poi ci vogliono dei sistemi che le elaborano e ci vogliono poi dei processi per attivare immediatamente le notifiche e le comunicazioni alle persone che sono entrate in contatto con i potenziali contagiati ci vuole un sistema articolato e complesso qual è la vera differenza segnata dall'approccio di Taiwan ma anche ancora di più da quello sudcoreano che l'aspetto tecnologico è stato paradossalmente l'ultimo ad entrare in gioco nella gestione della pandemia perché dopo la SARS nel 2013 la Corea del Sud e Taiwan fece un ragionamento analogo disse non un'altra volta la SARS all'epoca ebbe degli effetti devastanti in Corea e quindi il governo si strutturò per poter avere un apparato anche tecnologico che consentisse di reagire a future pandemie a future epidemie ed è quello che è successo ma cosa è successo? è successo perché è stato possibile ottenere quel tipo di risultati? Perché l'abitudine al contatto con la tecnologia dell'informazione si è stratificata nel corso del tempo se ci fate caso oggi nessuno di noi più si scandalizza dell'esistenza dei Bancomat o dei Telepass eppure dal punto di vista della privacy sono quanto di più invasivo potremmo immaginare però oramai hanno fatto parte sono diventati parte della nostra vita quotidiana abbiamo visto abbiamo toccato con mano che l'utilizzo di queste tecnologie non ci ha resi meno liberi o più schiavi allora quello che è accaduto in Estremo Oriente è esattamente questo una scelta di trasparenza una politica industriale di sviluppo massiccio delle tecnologie e delle informazioni ha fatto sì che nel momento in cui è arrivata una pandemia il sistema abbia potuto funzionare dal punto di vista tecnologico dal punto di vista politico e dal punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini aggiungo anche un'altra cosa normalmente quando si fanno commenti sull'Estremo Oriente si tira fuori il discorso del eh vabbè ma tanto quelli sono confuciani e quindi sono abituati a seguire le regole ora avere questo approccio nei confronti dell'Estremo Oriente è come parlare della filosofia occidentale dentro c'è Platone ma c'è anche Kierkegaard e c'è Newton oppure della cucina occidentale quindi in realtà la i paesi non cinesi mettiamola così si sono affrancati da tempo da questi modelli culturali di marca strettamente confuciana e se andate a guardare la vita politica coreana vi accorgerete che eh addirittura fa impallidire per conflittualità quello che accade dalle nostre parti ne ho parlato con qualche collega che appunto insegna all'Università di Seoul per chiedere appunto informazioni su questo punto e mi hanno confermato questa questo dato rifatto da noi che cosa è successo? è stato sostanzialmente impossibile fare il contact tracing sulla base dell'applicazione di un principio di precauzione privo di qualsiasi fondamento allo stesso tempo oggi avrete sentito eh notizie sulla possibilità di migliorare le terapie contro le terapie contro il cancro la ricerca scientifica però guarda caso per ben due volte il Parlamento Italiano quando si è trattato di recepire il decreto legge capienza eh ha dichiarato inammissibili vi ricordo che il decreto capienza è quello che ha modificato il codice dei dati personali ha dichiarato inammissibili degli emendamenti che eh avevano eh come scopo quello di pur mantenendo il controllo ovviamente sull'operato della ricerca scientifica di consentire la l'attività di ricerca in particolare sui dati genetici aggregati sulla base di un sistema di denuncia di inizio attività senza dover necessariamente attendere autorizzazioni prima di poter avviare la ricerca era un emendamento che avrebbe eh non nulla avrebbe tolto alle garanzie dell'interessato nulla avrebbe ridotto delle prerogative del garante dei dati personali ma avrebbe consentito ai ricercatori di curare prima e meglio le persone bene è uno strano paese quello nel quale un emendamento del genere viene dichiarato inammissibile senza nemmeno una motivazione articolata e dall'altro lato ci sono ben tre disegni di legge per i quali si fanno audizioni a sprombattuto in materia di streaming di di televisione di eventi sportivi pirata sarà un mio limite ma non capisco i livelli di importanza di questi due argomenti queste sono le cose che stanno succedendo in nome appunto di una narrativa sulla privacy totalmente destituita di fondamento che ha trasformato questo concetto in un feticcio in una sorta di di norma ripeto super costituzionale in nome della quale chiunque deve fare e qualunque altro diritto deve fare un passo indietro questa affermazione vi potrebbe lasciare abbastanza perplessi d'altra parte non fanno altro che ripeterci da sempre che la profilazione delle big tech viola la privacy delle persone è vero e non è vero nello stesso tempo è vero perché oggettivamente la raccolta di informazioni sulle persone è finalizzata all'applicazione di questo modello che vedete descritto il l'Ocean Psychometric Profiling Model che è una sintesi a mio modo di vedere perversa delle teorie di Jung e di quelle di Skinner quindi da un lato sicuramente l'accumulazione dei dati è fondamentale per profilare le persone ma in realtà la profilazione funziona bene e anche meglio se è fatta su soggetti anonimi in altri termini al grande profilatore non interessa avere non necessariamente interessa avere nome e cognome della persona che sta utilizzando il computer in un certo momento al profilatore interessa sapere se è sempre la stessa persona alla quale si riferiscono i dati che mi permetto di dire Andrea sono le stesse conclusioni alle quali sono arrivate le autorità garanti nel report sui big data quindi anche l'autorità garante per la protezione dei dati personali con l'autorità garante concorrenza e mercato e l'autorità garante per le comunicazioni sono arrivati a questa conclusione ecco mi viene però da commentare due cose uno con vent'anni di ritardo e due quantomeno sotto il profilo del GDPR non c'è nessuna forma nessun modo per vietare questa forma di profilazione perché nel momento in cui i dati sono del tutto aggregati sono del tutto anonimi chiaramente non si applicano le definizioni dell'articolo 4 del GDPR quindi l'aspetto paradossale è che ci siamo crogiolati per anni abbiamo fatto per anni queste processioni portando in ostensione l'omicoshi il morticino nell'urna della privacy quando in realtà poi le forme di violazione di condizionamento della vita privata non della privacy avevano preso già da tempo altra forma aggiungo anche che paradossalmente nemmeno tanto se volete la profilazione non serve nemmeno più la profilazione individualizzata a livello nominativo perché quello che conta è avere una quantità di dati necessità per la quale si possono addestrare i sistemi di con molte virgolette intelligenza artificiale che non funzioneranno sono sostanzialmente un ma questo è un altro discorso però sta di fatto che l'obiettivo non è più quello di accumulare informazioni per mantenerle ma è accumulare informazioni per darle in pasto ad un software e fare in modo che il software possa a questo punto operare senza dover ogni volta avere accesso a una base di dati se guardate i contratti che il governo inglese ha stipulato e questa è una cosa che ho documentato nel libro su covid-19 and public policy in the digital age se guardate i contratti stipulati dal governo inglese con le varie multinazionali alcune note altre meno note per poter gestire i dati sanitari della pandemia vedrete che in tutti quei contratti che sono stati resi pubblici sulla base di un accesso appunto sulla base della trasparenza amministrativa vedrete che in tutti quei contratti ci sono delle clausole che in un modo o nell'altro dicono sì sì i dati mica li vogliamo i dati ve li ridiamo sembrerebbe un approccio inspiegabile se è vera la narrativa per la quale i grandi accumulatori di dati vogliono trattenere i dati per loro stessi qual è il senso del dire sì sì noi li trattiamo ci lavoriamo vi diamo il servizio dopodiché vi restituiamo tutto il senso è abbastanza chiaro ve li ridiamo perché non ci servono più e perché non ci servono più perché quello che ci dovevamo fare lo abbiamo già fatto a proposito a che ora siamo non vorrei andare troppo ok questo è l'argomento diciamo cardine di tutta la giornata privacy non è protezione dei dati personali la carta di Mizza che è quanto di più vicino abbiamo alla Costituzione europea distingue in due norme specifiche il rispetto alla vita privata e familiare articolo 7 che ha una formulazione praticamente identica rispetto all'articolo 8 della Convenzione europea dei dati personali dei diritti umani e distingue questo diritto dal diritto alla protezione dei dati di carattere personale che invece è garantito dall'articolo 8 allora se vale il sillogismo per cui tutela della vita privata e familiare equivale a privacy nel momento in cui protezione dei dati personali è diversa da protezione della vita privata e familiare protezione dei dati personali è diversa da privacy il sillogismo è direi granitico d'altra parte lo stesso GDPR ma anche la direttiva 9546 nemmeno contiene la parola privacy nella sua nella sua versione inglese a maggior ragione in quelle nelle altre scritte nelle altre lingue e d'altra parte lo stesso GDPR dice che la protezione dei dati personali è strumentale ai fini della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona quindi se la protezione dei dati personali equivalesse a privacy ci troveremmo in una situazione tautologica per cui se la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale la protezione dei dati personali serve a proteggere se stessa il ragionamento potrebbe sembrare spiegar troppo ma in realtà anche qui la conclusione logica del modo in cui sono scritte le norme quella è tuttavia la protezione dei dati personali in realtà è uno strumento estremamente più potente della nozione di privacy per tutelare i diritti e libertà fondamentali della persona perché se quando parliamo di protezione dei dati personali ci sganciamo dalla visione ristretta dal campo di visione ristretto della privacy e ampliamo a tutto quello che il GDPR effettivamente contiene integrità dei dati attendibilità disponibilità portabilità vediamo che si tratta di una norma estremamente flessibile estremamente versatile che consente di incidere su un mare di situazioni dalle cartelle pazze agli errori sanitari a insomma solo la la fantasia e il limite ambiti nei quali la nozione di privacy non avrebbe minimamente cittadinanza anzi aggiungo se pensiamo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali in termini di privacy allora gli obblighi di attendibilità di integrità e disponibilità dei dati sono intrinsecamente contraddittori perché se il concetto di privacy è sono solo fatti miei il diritto di essere lasciato da solo e via discorrendo perché i miei dati dovrebbero essere disponibili perché i miei dati dovrebbero essere attendibili perché i miei dati dovrebbero essere integri dovrebbero esserlo perché il GDPR serve per far circolare i dati sulla base del principio del need to know cioè del verificare se chi comunica ha titolo per comunicare e se chi riceve la comunicazione dei dati ha titolo per riceverlo quindi come vedete il GDPR non è costruito sul concetto di privacy ma è è costruito sul concetto di verifica della legittimità del titolo per la circolazione dei dati stessi inoltre inoltre a differenza della privacy la protezione dei dati personali ha tre vantaggi dal punto di vista pure strettamente forense clamorosi innanzitutto è positivizzata cioè la protezione dei dati personali è formalizzata in una norma in secondo luogo è chiaramente definita perché il GDPR attua il principio di cui è l'articolo 7 della carta di inizia e ci dà un contenuto ancora una volta formalizzato di quali sono gli ambiti di operatività della norma e poi è immediatamente applicabile ci sono delle procedure che non richiedono un complesso giro percorso giurisprudenziale per poter arrivare ad un'applicazione concreta della tutela e veniamo appunto all'oggetto della tutela perché è qui che si capisce che appunto privacy e protezione dei dati personali non sono manco lontani lontani pareti perché il dibattito pubblico su privacy e protezione dei dati personali soffre di un peccato storico quando ci si confronta con i temi delle tecnologie e dell'informazione che è quello di regolare le cose e non i diritti i dati sono il nuovo petrolio i dati sono il nuovo oro non è vero il nuovo oro sono i nostri diritti in altri termini quello che è successo sarebbe complesso parlarne magari se mi invitate l'anno prossimo parleremo del libro che sto scrivendo nel quale sviluppo questi concetti quello che è successo è che ad essere trasformati in valore di scambio sono stati i nostri diritti nel momento in cui siamo disposti a cedere parti della nostra vita per poter sentire qualche canzonetta su Spotify o poter avere l'accesso al social network gratuitamente gratuitamente senza pagare non gratuitamente senza corrispettivo noi nel momento in cui rinunciamo alla libertà di espressione perché vabbè ho capito mi hanno cancellato il post i moderatori amen nel momento in cui rinunciamo ai nostri diritti e li consideriamo negoziabili e questo è il vero oro che abbiamo messo nelle mani delle big tech e dei signori delle tecnologie dell'informazione non sono i dati invece questo approccio miope che insegue le cose il diritto delle blockchain il diritto degli MFT il diritto del metaverso che noia ogni volta che qualcuno del marketing di una tecnologica si inventa qualcosa partono le schiere di autonominati esperti attiro la vostra attenzione che adesso c'è una certa quantità di orfani di Libra e Diem cioè le criptovalute lanciate all'epoca di Facebook perché essendosi resi conto della non sostenibilità del progetto quelli di Meta o della Diem Foundation o di come si chiama hanno semplicemente cancellato le iniziative andatevi a rileggere tutte quante le tutti quanti i vaticini che sono stati pronunciati sul ruolo di queste di questa nuova moneta sulla necessità di affrontare problemi giuridici bla bla e bla e scoprirete che abbiamo perso del tempo meglio dedicarsi da questo punto di vista all'accessio possessionis che come dire avendo a che fare con diritti reali ha una una sua continuità di utilizzo nel nel tempo e dicevo questo atteggiamento si traduce in una scelta normativa che si occupa di regolare il cosa invece del come il nostro diritto è un diritto dell'evento parlo delle componenti penalistiche ma concettualmente stiamo parlando di di sistema in altri termini la modalità di lesione di un diritto non è particolarmente rilevante può esserlo in ambito penalistico ai fini degli aggravanti degli attenuanti e via discorrendo può essere può esserlo in ambito civilistico ai fini della verifica del rispetto del mancato rispetto dell'obbligo di buona fede contrattuale e via discorrendo ma in realtà quello che conta alla fine è se un comportamento umano incide sulla sulla sfera giuridica di un'altra persona se noi se noi pensiamo di regolare non più il cosa ma il come stiamo anticipando e spostando l'asse della tutela verso una direzione che non saremo mai in grado di gestire perché se noi inseguiamo il cosa se noi chiedo scusa inseguiamo il come quello che succede è che appunto dovremmo avere il diritto del metaverso il diritto degli smart contract il diritto di fate voi quale sia la prossima invenzione commerciale i fatti hanno dimostrato che questo approccio è un approccio fallimentare tornando al discorso della paralasi se il tema fosse quello di tutelare la vita privata avevamo già l'articolo 615 bis del codice penale che si intitola interferenze illecite nella vita privata e se il tema era quello di estendere la forma di tutela penalistica alle violazioni commesse tramite l'utilizzo di dati o la raccolta di informazioni sarebbe stato possibile aggiungere a quella parte del comma che parla di utilizzo di strumenti di ripresa audiovisiva anche l'utilizzo di dati e informazioni comunque raccolte o addirittura prevedere un aggravante specifica di effetto speciale perché no due righe che avrebbero garantito la massima tutela alla vita privata perché la norma penale essendo l'estrema razio è quella che intrinsecamente garantisce la massima tutela questo è quello che effettivamente non è successo siamo andati da tutt'altra parte e allora quello che per cominciare a tirare le fila del discorso e magari se c'è spazio lasciare spazio a un po' di dibattito quello che emerge a valle di questa riflessione è che in realtà la privacy è più una categoria ordinatoria è più un umbrella world poi risponderò a tutte quante le domande in chat finisco un attimo il ragionamento la privacy quindi non esiste come è possibile sostenere che la privacy non esista come diritto autonomo perché perché in linea di massima tutto ciò che abbiamo associato al concetto di privacy è già tutelato da altre norme a vario livello di costituzionalità se c'è un problema di segrete se c'è un problema di tutelare le comunicazioni c'è la inviolabilità delle comunicazioni se c'è un problema di non essere disturbati all'interno di casa propria c'è il diritto alla inviolabilità del del domicilio la dignità della persona è tutelata dal divieto di discriminazione la libertà di espressione arriva fino al punto di tutelare il whistleblowing voi sapete che la normativa sul whistleblowing prevede l'anonimato del segnalatore quindi ciascuno di questi di questi diritti può costituire una delle articolazioni nelle quali si si può manifestare questo concetto di privacy che ripeto non esiste in termini autonomi o perlomeno fino ad ora non mi sembra di avere trovato una giustificazione per sostenere che si possa configurare la privacy come un diritto autonomo perché tutto ciò che abbiamo tutto ciò che serve è già garantito da altre norme quindi se noi consideriamo siamo consapevoli che quando parliamo di privacy parliamo di un metaconcetto che ci serve per evitare di ripetere ogni volta libertà di espressione del giusto processo e compagnia cantando va bene ma se pensiamo di parlare di usare la parola privacy come diritto autonomo beh lì qualche problema francamente ce lo vedi è possibile però un approccio differente che potrebbe dare un significato autonomo al concetto di privacy ed è la conclusione alla quale arriviamo nel libro di cui vi ho detto in apertura di questo incontro e cioè se noi consideriamo la privacy come il potere di decidere come e quando condividere informazioni personalissime allora effettivamente andiamo a entriamo in una sfera che non è così facilmente gestibile con con i parametri con i criteri con gli istituti di cui abbiamo parlato fino ad ora in questo senso è utile utilizzare è utile fare ricorso a questo schema che è uno schema sociologico antropologico del modo in cui in Giappone viene considerata la relazione dell'individuo con la società perché questo diagramma trovate la citazione dello studio dal quale è tratto descrive in modo molto preciso il concetto al quale mi sto riferendo se voi pensate alla relazione fra individuo e società come una serie di ellissi in questo caso ma di cerchi concentrici allora vedete che c'è una sfera che è assolutamente sotto il nostro controllo esclusivo che non condividiamo con nessuno nemmeno con la nostra famiglia poi c'è una seconda sfera che è estremamente personale e privata e che è riservata esclusivamente al nostro ambito strettamente familiare ma che però è isolato dalla sfera individuale per poi passare ad uno strato più esterno che è quello della della cerchia chiamiamola sociale e poi un ulteriore passaggio che può far riferimento alla interazione per esempio sui luoghi di lavoro e poi si arriva a tutto ciò con cui non abbiamo una qualche forma di relazione diversa per poi arrivare a chi è addirittura fuori dal perimetro il tanin l'altro il totale estraneo che non ha nessun modo di interagire con le nostre con la nostra sfera personale e allora se noi pensiamo al diritto alla privacy come diritto di condividere di scegliere quando cosa e come condividere della parte che in questo grafico afferisce all'uatashi cioè alla sfera assolutamente individuale personale e intima beh allora forse abbiamo un concetto di privacy che si differenzia da quelli che normalmente vengono associati alla parola in sostanza dunque la privacy non è un diritto in sé e soprattutto non viene applicata o non dovrebbe essere applicata sempre e comunque a tutti i costi è più simile a una frazione in una staffetta dei diritti non per questo è meno importante ma anzi nell'ottica che vi ho che vi ho proposto è quella che corre la prima frazione e che però mette consegna nelle mani degli altri diritti la tutela dell'individuo a mano a mano che la persona passa dalla sua sfera individuale singolare e personale alla interazione con la società di la di la 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 Grazie a tutti